buongiorno mister vigilia di bologna crotone cominciamo dal resto del carlino poli le ha dimostrato di essere già pronto per giocare dal primo minuto no mentre come sta de silvestri secondo lei ha bisogno di rifiatare dopo avere sempre giocato questa settimana come l'ha visto rifiata durante la settimana poi quando c'è già giocare gioca di silvestri è uno che ha la maggior caratteristica le corse se facciamo anche lui riposare tutto allora altri cosa devono fare una domanda su barrow secondo lei che cosa gli manca per avere la stessa rabbia che aveva l'anno scorso dopo il lockdown e la sua idea resta quella di lasciarlo a sinistra gli manca la rabbia di far gol si trova in situazioni tutto ma la deve sfruttare di meglio avere più cattiveria più rabbia poi come detto barrow esprime meglio di sé quando gioca o seconda punta o quando gioca largo a sinistra perché lui deve vedere la porta girato di fa di 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 faccia andare verso la porta avere lo spazio il dribbling di tutto per accentrarsi poter calciare può fare anche la punta ma non non è il suo ruolo ecco lo può fare in emergenza e tutto ma l'abbiamo visto anche 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 mercoledì perché dipende da 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 dove arriva se lui arriva da da parte destra fa più difficoltà a fare gol che se invece arriva la parte sinistra nostro di attacco dove con destro la piazza meglio in questi giorni si è più arrabbiato per l'eliminazione dalla coppa con i suoi giocatori o perché le manca una prima punta come dice da tempo ma in questi giorni soprattutto sono stato male per diego perché non mi aspettavo e quello fortunatamente fortunatamente diciamo ho pensato più più a a lui e come la vita che invece quanto mi avrei dovuto arrabbiare ma devo dire la verità anche che io rispetto a dieci anni fa sono molto diverso mi sono arrabbiato anche questa volta ma in maniera diversa cercando di di andare sull'orgoglio dei miei giocatori perché come detto io con loro ho un rapporto diverso al rispetto di tutti gli altri giocatori tutte le altre squadre che ho avuto proprio per tutto quello che noi abbiamo passato insieme per tutto quello che mi hanno dato però gli ho anche detto che ognuno di noi ha un limite e loro sono arrivati a superare quel limite perciò adesso da adesso si riparte da da zero a zero nel senso che io oggi non perdono nulla e certe volte come ho detto e soprattutto non è colpa loro è colpa mia perché io in certe situazioni dovevo essere più duro con loro invece visto tutto quello che si è passato cercavo sempre di trovare una giustificazione di trovare un alibi che io per me stesso non lo cerco mai non lo voglio non voglio alibi non voglio giustificazioni e mi accorgo che qualche volta magari anche inconsciamente loro loro hanno come posso dire hanno sfruttato sta roba qua non in maniera positiva ciò adesso da adesso in poi cerchiamo di fare cose per bene quando succede quello che è successo mercoledì perché mercoledì abbiamo capito che quello che non dobbiamo fare perché se facciamo quello che abbiamo fatto mercoledì non diciamo mai la partita se tu vai in campo con atteggiamento sbagliato non concentrato tutto poi partite li perdi contro chiunque almeno non lo so se sappiamo cosa dobbiamo fare ma penso di sì ma almeno sappiamo cosa non dobbiamo fare per non perdere partite come una cosa per far capire anche per un ceno storico nel senso che quando Thomas Edison quello che ha inventato la lampadina lui dopo 2000 tentativi ha riuscito a compiti esperimenti a far funzionare sta lampadina gli hanno detto alla conferenza stampa dice ma allora significa che lei 1999 volte ha fallito lui dice no io 1999 volte ho capito che devo fare e in che modo non si può fare una lampadina poi due millesima volta ha capito perciò anche quelle 1999 volte sono servite perché sono servite per fargli capire che in quel modo non si può fare una lampadina perciò anche noi abbiamo capito spero poi vediamo domani che in quella maniera noi non dobbiamo fare non dobbiamo giocare così perché se giochiamo così non vinciamo passiamo al Corriere della Sera in parte ha già risposto comunque ha detto qualcosa di particolare ai suoi giocatori in questi due giorni ma quello che ho detto prima abbiamo parlato ci siamo confrontati e ho detto quello che penso e spero che non si ripetta più perché che si dovesse ripetere poi dopo diciamo noi dobbiamo capire che non è lo stesso vincere e perdere una partita loro devono capire quando si perde una partita almeno come lo faccio io come la sento io io non dormo di notte io sto male e vorrei che anche loro vivessero un po questa sensazione la devono sentire sulla pelle ma io questo ho fatto anche da giocatore anche da allenatore perciò cerco da loro anche vedere questo dispiacere questa rabbia che io quando perdevo la partita io non vedevo l'ora di arrivare subito altra partita per rifare e anche adesso quando io perdo sono incazzato sono dispiaciuto sto male e vorrei che in qualche maniera anche i miei giocatori lo facessero che sanno che quando uno perde la partita che poi dopo passa giorni terribili però penso che quella anche la passione per il proprio lavoro per quello che fa per la soddisfazione dei risultati perché ho già detto qua è si cerca di fare di avere tutto e subito no tende a chiamare uno sport nazionale con minimo sforzo otterremo i massimi risultati perché la vita è così perché oggi si digita prima di pensare si fotografa prima di guardare come posso dire si critica prima di conoscere le cose ma questo non va bene perché nel caso come nella vita diciamo se tu se tu sei superficiale se non sei concentrato se pensi che una cosa sia facile poi dopo ci caschi sempre nella vita se tu prima di imparare a camminare ci caschi mille volte prima di imparare a camminare e allora una volta quando hai imparato a camminare non ci devo più coscare devi ricordare però se tu dopo se ci caschi devi avere forza per rialzarti come si dice sempre tutto e io mi aspetto per domani una reazione a parte della mia squadra che non sottovalutiamo avversario perché noi non possiamo sottovalutare nessuno perché se noi non tutti noi non andiamo in campo con non atteggiamento giusto non concentrati sui compi che dobbiamo fare non abbiamo la cattiveria voglia e disperazione in tutte e due aree in quella offensiva e quella difensiva noi perderemo tutte le fattive e ormai siamo da un anno e mezzo che siamo insieme per ciò mi aspetto da loro di crescere ma non come calciatori ma come uomini prendersi responsabilità è tutto che loro ogni tanto lo fanno ma io lo volevo fare con più continuità e quello è un allenamento mentale come un allenamento fisico e tutto e devono abituarsi a quello perché altrimenti siamo sempre là anche se io ho ragazzi giovani tutto che è normale che magari essendo giovani ci sono alti bassi però bisogna svegliarci bisogna svegliarci cercare di essere più continui più equilibrati meno alti bassi e questo si raggiunge solo quando tu vai in campo concentrato con l'atteggiamento giusto convinto nei propri mezzi sapendo che quando giochi bene puoi vincere contro chiunque e sapendo che devi essere più cattivo più cinico in aria e ti devono servire sette otto occasioni per far gol perché noi mercoledì abbiamo avuto non so quante occasioni loro hanno fatto quattro tiri in porta e quattro gol se avessero fatto otto tiri avrebbero fatto otto gol noi dovevamo fare almeno sei gol abbiamo fatto due e abbiamo preso quattro con tutto rispetto per Spezzi e tutto così non si può andare avanti poi siamo usciti da Coppa Italia e dispiace la società, dispiace a me ma dispiace anche ai stessi ragazzi però sono sbagli da non ripetere Bologna-Crotone, quanto conta, che partita sarà anche perché dopo inizia un mese abbastanza duro come calendario Bologna-Crotone è più o meno la partita di mercoledì nel senso che incontriamo una squadra neopromossa una squadra che ha due punti ma che gioca bene che non si merita quei due punti in classifica una squadra aggressiva, una squadra che sa giocare una squadra che ci metterà in difficoltà poi naturalmente noi giochiamo in casa a parte quello è normale che noi siamo più forti del Crotone ma eravamo più forti anche della Spezia perciò non dobbiamo fare lo stesso sbagli è lo stesso tipo di partita dobbiamo andare in campo concentrati da primo minuto non sottovalutando l'avversario sapendo che ci metterà in difficoltà che dovremo soffrire ma sapendo anche che se avremo occasioni allora quando ci sono occasioni non voglio più vedere i pallonetti i cazzi vari e tutto dopo che si va si spacca la porta essere cattivi nell'area avversaria essere cattivi nell'area propria essere più concentrati cioè questa è la partita e come non dobbiamo ripetere gli stessi sbagli siccome manca più di un mese prima di affrontare il discorso del mercato allora la domanda è che cosa sta pensando lei come correttivi per non trovarsi sempre dopo la partita a parlare dei soliti errori io cosa faccio? e cosa può fare? quale cambiamenti sta pensando? in che cosa? con la squadra che ha a disposizione noi sappiamo quello che ci che se si riesce a prendere quello che ci serve ma sono ormai da due anni che è quello cioè non è vediamo se si riesce a prendere se è una cosa che che ci può interessare o no ho detto non si prende tanto per prendere se si prende deve vedere piacere deve essere funzionale al mio modo di vedere calcio se si riesce a trovare si trova se non si riesce a trovare pazienza non c'è nulla di nuovo poi da qua a meccato chi vive o chi morte a questo si collega la domanda di tutto Bologna Web la richiesta di una sua punta di che tipo deve essere? c'è un giocatore simile a Rodrigo ma io non devo dire a loro a che punta deve essere la società lo sa non sono qua io a dire a sito web che tipo di punta mi serve vorrei ti posso dire? Messi Cristiano Ronaldo va bene? so con te ecco quello passiamo a Repubblica il cinismo di cui lei parlava prima è qualcosa di allenabile o deve scattare in testa o è un istinto che un attaccante ha o non ha? ma tutto si può allenare tutto si può migliorare però deve averlo dentro perché il cinismo si può allenare può anche essere migliorabile però soprattutto deve averlo dentro poi non è detto neanche dai migliorabile poi fino a un certo punto perché se no andrebbero tutti in nazionale avrebbero fatto tutti i 20 gol a campionato ci sono anche caratteristiche e tutto perciò si sa se uno se tu c'è un attaccante che ogni anno ti va in doppia cifra sai che più o meno ti farà doppia cifra poi se tu giochi in una maniera offensiva magari pensi che quello può fare anche più di quello dipende anche come gioca la squadra se tu c'è un attaccante che non ha mai andato in doppia cifra ci sono poche possibilità che andrà in doppia cifra anche se tu giochi offensivo e tutto in numeri non c'è non ci vuole tanto chiusura sempre su Musa Barrow ha giocato quasi 120 minuti e lo farà rifiatare dall'inizio oppure insisterà su di lui anche perché aumenti di fiducia ha giocato Musa Barrow 120 minuti mi sono accorto su quelle cose che ha sbagliato che ha giocato ma spero domani giocherà sì che giocherà ma speriamo che quello che farà sarà diverso da quello che è fatto mercoledì che che ha imparato lezioni perché non si possono neanche sempre ripetere gli stessi sbagli perché significa che uno di coach quando va davanti alla porta io se lui la piazza e fa gol io sono contento è giusto ma se lui la piazza e non fa gol sono i cazzi amari cioè io quando va là non voglio più vedere i pallonetti cose qua là devi tirare forte forte poi sbagli non me ne frega niente ma non voglio più vedere le occasioni che ci capitano che vogliamo fare i pallonetti i piazza e noi facciamo tutti i grandi giocatori la ci vuole ignoranza ignoranza sana si va là tira perché i piccoli che il terzo attaccante delle spezia il primo gol che hanno fatto non l'ha piazzato ma l'ha tirato una botta che il nostro porangelo l'ha visto la sera dopo su highlights e questo deve essere tu come attaccante devi avere la fame devi avere cattiveria devi andare là e spaccare la porta e devi pensare che quella occasione che ti capita è unica che ti capita non ti capitano più non pensare che sbagli questo poi ci saranno le altre non ci saranno le altre quello deve là si deve migliorare là mentalmente la cattiveria quando vai là e spero di lui perché lui non è uno nato ha avuto la bambagia viene da un paese povero e tutto perciò ha sentito la fame ha la fame ha avuto la fame perciò io da lui mi aspetto quando va là che vedo sta fame vedo sta ignoranza quando va là che è cattivo non che va là e moscio no ma mi aspetto da lui in tutto io ieri gli ho fatto vedere tanto un documentario su Maradonna ok che adesso purtroppo Diego è morto e tutto adesso si fanno vedere tutti i film e tutto ma gli ho fatto capire in Maradonna è stato più grande giocatore di tutti i tempi perciò tutti tutti conoscete Maradonna tutti avete visto Maradonna giocare quale è la sua migliore caratteristica tutti guardano Maradonna che fa 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 ma Maradonna difendeva che faceva Maradonna stava là faceva due tre passi e poi si fermava o difendeva sai essendo Maradonna io sono Maradonna mi dai la palla ci penso io che io ho bisogno di correre indietro di fare cose poi ho fatto vedere video di tre quattro minuti dove si capiva perché Maradonna è più grande di tutti perché lui andava a scivolate a 16 metri dalla porta sua andava a recuperare la palla c'era tutto dentro c'era rabbia c'era recupero immediato c'era raddoppio c'era pressing c'era cattiveria su andare su ogni palla come andava la rubava i contrasti e tutto ed era Maradonna se lo poteva far Maradonna lo possono far tutti lo devono far tutti che non posso vedere il mio giocatore che ha vent'anni che va in contrasto e va mosce non esiste gli ho fatto vedere non gli ho fatto vedere Maradonna per per che lo conoscono tutti come gioca ma per quello che ha fatto per il sacrificio per l'umiltà che ha avuto lui che è Maradonna e non posso permettere che uno che appena comincia a giocare o gioca a Bologna o a qualsiasi altra parte non ha quella umiltà e quella è differenza che lui e perché lui era più grande di tutti non per quello che faceva avanti ma soprattutto quello che faceva dietro come difendeva come andava a pressare come raddoppiava come andava a recuperare la palla con quale umiltà giocava questo l'ho fatto vedere a posto per far capire a loro che se lo faceva Maradonna lo può fare Baro lo può fare Suamber lo può fare Orsolini lo può fare Palaccio lo può fare tutti quelli che non lo fanno con continuità se lo può fare Maradonna lo devono fare tutti e io quello voglio vedere Terminiamo con la gazzetta una domanda sulla condizione fisica ha visto qualcuno stanco sta pensando di cambiare qualche interprete io mercoledì ho cambiato solo quelli che dovevo cambiare per forza Eikei Scouten Danilo Palaccio quattro perciò questi quattro domani giocheranno altri c'abbiamo un altro elemento vediamo ma scusa noi i giocatori di Serie A tre partite una settimana una volta ogni tanto lo possono far tutti se no si cambia il mestiere si fanno fare ragionieri stanno in casa e basta i tre partiti una settimana lo devono se sei giocatore di Serie A lo devi far per forza poi magari gli ultimi 10-15-20 minuti si può fare qualche cambio è tutto perché uno può essere più stanco dell'altro però io cerco di cambiare il meno possibile ci vediamo domani grazie